Per un anno e mezzo hanno sognato questo momento e finalmente è arrivato. Ecco l'annuncio che mette fine al terrore. 42 giorni senza nuovi casi di ebola in tutta la Liberia. Il governo e l'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno così dichiarato il paese libero dal virus. L'applauso è spontaneo e liberatorio. Ma nel giorno dei festeggiamenti c'è anche spazio per la preghiera e il ricordo delle vittime. Un minuto di silenzio ha omaggiato i 4.700 liberiani morti di ebola che rappresentano oltre un terzo delle 11.000 vittime registrate in tutta l'Africa occidentale. Il lavoro però non è ancora finito. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto tutti insieme, ha detto il commissario ONU per l'emergenza ebola in Liberia, ma ora dobbiamo restare vigili. Il virus è ancora presente in quest'area e finché non sarà debellato definitivamente siamo ancora tutti a rischio. Parole che arrivano nei giorni in cui proprio l'ONU bacchetta l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un comitato di esperti ha dichiarato sorprendente che l'OMS sia intervenuta in maniera decisa contro ebola solo quattro mesi dopo averla dichiarata emergenza globale. Ritardi ed errori, conclude il rapporto sollecitato dalle Nazioni Unite, che evidenziano come l'OMS non abbia la capacità operativa o la cultura per assicurare una piena risposta a un'emergenza sanitaria pubblica. Un allarme di certo importante, ma incapace, per fortuna, di annientare l'entusiasmo di un intero paese che finalmente può tornare a guardare al futuro con speranza e ottimismo.